Alliste è un piccolo comune della provincia di Lecce, collocato in una valle compresa tra due vicine serre, la cosiddetta Serra orientale e la Serra costiera. Il suo territorio, situato sul lato occidentale della costa del Salento, è tratteggiato da lievi alture, il cui punto più alto è conosciuto come Madonna dell'Alto, per via della presenza di un'antica cappella eretta dai monaci basiliani nel X secolo. Il toponimo di Alliste deriva dalla parola Ali, che farebbe riferimento alle ali dell'arcangelo Michele. Un'antica leggenda racconta che nel IX secolo l'arcangelo salvò un gruppo di profughi che fuggirono dalla vicina Felline assediata dai saraceni. Da quel momento i sopravvissuti fondarono la cittadina di Alliste dedicando il nome del paese al suo protettore. Secondo un'altra interpretazione, il toponimo Alliste o Caggiste, come ancora oggi viene chiamata nel locale idioma, significherebbe bellissima e farebbe riferimento alle particolari caratteristiche ambientali e morfologiche del territorio. Un tempo il borgo di Alliste era circondato da possenti mura ed erano molte anche le abitazioni munite di sistemi di autodifesa. Di queste tipologie di case oggi resta come testimonianza la casa Torre, situata alle spalle della chiesa di San Quintino. Molto probabilmente, vista la sua posizione topografica, questa particolare casa vigilava l'ingresso alla terra, ossia al borgo fortificato di Alliste. Considerato oggi il centro pulsante vitale di Alliste, Piazza San Quintino prende il nome dall'omonima e bellissima chiesa che si affaccia su di essa. Completamente in linea con le esigenze del nuovo assetto urbanistico e viario, rappresenta uno dei punti di aggregazione sociale e culturale di Alliste. L'ampio spazio pavimentato che si affaccia di fronte alla chiesa madre è circondato da alberelli e panchine che creano il luogo ideale per una passeggiata o per una sosta, lontano dai pericoli del traffico stradale. Il luogo dove oggi sorge la chiesa di San Quintino era posizionato fuori dalle mura urbiche, in aperta campagna. Questa scelta fu dovuta alla necessità di realizzare un luogo di culto accessibile e facilmente raggiungibile dai malati, che erano ricoverati nell'allora vicino ospedale di San Quintino. Solo nel 1875 divenne la sede parrocchiale di Alliste. Tutta la raffinatezza stilistica della chiesa di San Quintino si sviluppa al secondo ordine. Qui elementi decorativi misti fanno da corollario allo sfarzoso frontone, al centro del quale è posizionata una nicchia con il dipinto del patrono San Quintino. Il Parco degli Ulivi permette alle famiglie e ai più piccini di trascorrere piacevoli momenti di relax in un posto protetto dal traffico cittadino. Il Parco rappresenta un omaggio al più importante simbolo salentino, l'albero di Ulivo. Al pari della vita, l'ulivo era una delle piante conosciute in Puglia fin dal VII secolo a.C. La numerosa presenza di questa stupenda specie vegetale è dovuta anche ai monaci basiliani, che nei secoli acquisirono possesso di vaste aree territoriali del Salento, profondendo un fortissimo stimolo alla coltivazione dell'ulivo. La storia di Alliste è strettamente legata alla sua frazione. Felline è un piglio che ha piccolo e grazioso borgo del Salento, che conserva ancora immutato nel tempo il fascino ancestrale del suo passato contadino. Felline molto probabilmente è di origine greca o messapica, come testimoniato da molti indizi. L'etimologia del suo nome potrebbe derivare dal greco Felline, che significa canneto, luogo lacustre. Per la presenza di questi luoghi paludosi era facile, in epoca messapica, reperire argilla di pregevole qualità ed è proprio per questo che un'altra teoria vede il nome di Felline tradotto con il termine greco filline, cioè luogo di produzione della ceramica. Il paese si sviluppa integralmente nel borgo antico, dove la tranquillità e il silenzio sembrano regnare sovrani. Sulle piccole strette stradine del centro storico si affacciano antiche case, la cui struttura è molto semplice, ma non mancano pregevoli abitazioni pitturate con il bianco candido della calce e caratterizzate da balconi e finestre rinascimentali. in questo caso è un'altra teoria, la cui struttura è molto semplice. una delle piazze di Felline più suggestive è Piazza Caduti, che rappresenta la sintesi architettonica dell'intero borgo antico. La piazza è racchiusa tra antiche case che si sviluppano su uno o due piani sovrapposti, alcune con tetto spiovente, altre col tipico tetto piano. L'elemento comune di tutte le abitazioni che incorniciano Piazza Caduti è rappresentato da piccole finestre che si affacciano direttamente su di essa, come anche le relative porte d'ingresso alle case. Dove sono presenti i balconcini al primo piano sono sobri e caratterizzati da una grezza ringhiera in carparo, il più delle volte lasciata a faccia vista. Tutte le abitazioni sono parte integrante di un unico disegno stilistico e architettonico, profondamente legato alla dimensione tipica del Salento contadino e popolare. Il castello di Felline era situato sul versante orientale dell'antica cinta muraria e fu eretto per volontà della famiglia Bonsecolo nel XII secolo, divenendo l'avamposto di difesa della vicina città messapica di Ugento. Il castello rappresenta una delle opere di fortificazione più interessanti del Salento. Si presenta con un impianto quadrangolare, rinforzato ai vertici da quattro torri di due differenti tipologie. Quelle frontali all'edificio sono quadrate, mentre quelle situate agli angoli posteriori del castello sono di forma circolare. Le torri quadrate risalgono al 500 e sono molto interessanti dal punto di vista architettonico, in quanto conservano ancora alcuni tratti del vecchio castello melitaresco. Il prospetto frontale del castello baronale è impreziosito dalla presenza di una lunga e continua balconata, con balaustra in carparo realizzata dal Pignatelli. Il portale di accesso al castello, un tempo sormontato dallo stemma gentilizio, è caratterizzato da una struttura ad arco a tutto sesto e presenta una cornice a bugne che lo rende imponente e sontuoso. La balconata, situata al primo piano dell'edificio, fu l'elemento architettonico che permise al castello di Felline di assumere le sembianze di un palazzo gentilizio, conferendo a tutto l'immobile un aspetto signorile, ma senza perdere le connotazioni di un impianto militaresco. Paceggiando per la periferia di Aliste è possibile incontrare due menhir che siーユ peristicare una persona una persona ridata tra un suo ultra lontano quasi assoluta e continua a puoth庫 aud Wozni a titolare per completare l'esileso per blastodoss. Passaggiando per la periferia di Aliste è possibile incontrare due menhir, finostante un voter oggi ancora perfettamente conservati, nonostante le insidie del tempo. Il primo è il Menhir Terenzano, situato nel territorio dell'omonima Masseria. Il Menhir si trova incastonato in un muretto a secco, nella stessa posizione che fu rinvenuta e catalogata nei primi anni sessanta del Novecento. Un altro Menhir interessantissimo è il Menhir Linfeo. Esso è a base rettangolare con il lato lungo posto in direzione nord-sud, avallando la teoria secondo cui un tempo i megaliti venivano utilizzati anche come delle bussole terrestri, oltre che come luoghi di culto. La particolarità di questo Menhir è l'incisione del numero 30 sulla sua facciata ovest, il cui significato è ad oggi incomprensibile, anche se molto probabilmente è dovuto all'intervento dell'uomo contemporaneo per qualche fine pratico. Il Menhir è chiamato così per la presenza della grotta Ninfeo nelle immediate vicinanze. La grotta è completamente immersa in una vegetazione lussureggiante ed è intitolata, fin dai tempi dei Messapi, alle Ninfe, addette alla protezione di tutte le acque dolci della terra. Infatti il Ninfeo è un'altra testimonianza del megalitismo salentino sono le specchie, che sono delle collinette di pietre ammassate nei punti più elevati del territorio. Molti ricercatori ritengono che le specchie fossero delle tombe monumentali erette in onore di un capo o un leader. Per questo motivo molte specchie del Salento sono state distrutte allo scopo di disseppellire i potenci tesori da essa ricoperti. Questa era la cosiddetta acchiatura. Alista e Felline sono conosciute anche per lo splendido lungolitorale roccioso, che accoglie le due bellissime marine di Capilungo e Posto Rosso. Posto Rosso rappresenta una perla del litorale ionico salentino ed è chiamata così probabilmente per la tipica colorazione rossastra di alcuni punti della scogliera. Qui vi è il punto di aggregazione sociale della Marina di Alliste, conosciuto con il nome di Piazzetta Pilella, un ampio spazio pavimentato a forma di mezzaluna, situato a ridosso della bassa scogliera. Da Piazzetta Pilella parte un lungo e suggestivo camminamento lungo circa due chilometri, che collega Posto Rosso a Capilungo, l'altra marina di Alliste. Capilungo è una località costiera a ridosso del mare, divenuta oggi una meta turistica di alto livello per la tranquillità del luogo e per la limpidezza del suo mare cristallino. La costa è morfologicamente molto frastagliata e bassa e consente un facile accesso al mare. Qui è possibile cimentarsi nello snorkeling, grazie alla bellezza dei fondali rocciosi e alla particolare limpidezza delle acque. Capilungo si caratterizza anche per la ricchezza della florida macchia mediterranea, che qui vi cresce spontaneamente. Tutto questo permette ai visitatori della marina di Alliste di godere di uno splendido panorama, assaporando il profumo della salsedine mentre si è immersi tra la vegetazione della scogliera e il blu del mare cristallino. Grazie a tutti! A presto!